Altre segnalazioni da parte dei cittadini, quartiere Paolo VI, ancora una volta Viale Pietronenni, purtroppo gettonatissimo. Lavori realizzati in corso d'opera da parte dell'Acquedotto Pugliese, uno scavo profondo, da oltre 20 giorni uno stato di totale abbandono. I lavori, chissà per quale motivo, sono fermi. Quindi non solo uno scempio per quanto riguarda l'arteria stradale. Pensate, su questa strettoia, su questa linguetta di strada, passano gli autobus e devono contorcersi. Quindi, da un lato, dicevo, una carreggiata ristretta sensibilmente, difficoltà per i cittadini di camminare perché possono essere tranquillamente investiti dalle auto, uno scempio, un cantiere a cielo aperto. Non si sa che fine farà quest'area. Lavori sospesi. Non si sa che così è successo. Ripeto, Acquedotto Pugliese. E cosa parimenti grave è che, a seguito di questi lavori, il flusso dell'acqua, diciamo, la pressione dell'acqua è sensibilmente ridotta. Per capirci, l'acqua esce, esce poca acqua, il flusso dell'acqua, il quantitativo dell'acqua che esce dal rubinetto esce, come dire, in misura assai ridotta. Ma è mai possibile una cosa del genere? Allora, un'amministrazione comunale cosa fa? Si rapporta con l'acquedotto pugliese. Io, sindaco, io, assessore ai lavori pubblici, io, assessore al patrimonio, che vedo uno scempio del genere in casa mia, perché queste sono strade, io da sindaco dire che questa è casa mia, nel senso che è casa e sono strade del comune di Taranto, appartengono al comune di Taranto. Io, da massimo rappresentante del comune di Taranto, chiamo l'acquedotto e dico, signori dell'acquedotto, che cosa sta succedendo? Potete tenermi la strada ridotta ad un cantiere perenne? Questo deve fare un sindaco, questo deve fare un assessore al patrimonio. Caro Gianni Azzaro, caro Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, caro sindaco Melucci, dovete girare, 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 lo capite o no? Melucci, muoviti dalla sedia, gira, gira, non stare rintanato a Palazzo di Città. Forse tu, per arrivare in queste zone, tu che vivi a Crispiano, usi il navigatore, io le consumo, io consumo le suole delle mie scarpe dalla mattina alla sera, l'ho fatto per 21 anni da giornalista, lo sto facendo ora da consigliere comunale. Tu hai perso il contatto con la realtà, non sai quello che accade, ma è mai possibile che un'amministrazione non si confronti con l'acquedotto pugliese? L'acquedotto pugliese che interviene e che fa scempi, spacca le strade, poi si limita a mettere una linguetta di asfalto e se ne va, tanto poi nessuno controlla. Guardate qui, addirittura abbiamo, vedete, qui basta un colpo di vento e si ribalta tutto, vedete cosa può succedere? Guardate questa inferriata, può ribaltarsi perché balla, dondola, guardate come dondola, guarda, guarda, qui non è neanche fissata più, balla, balla pericolosamente, un colpo di vento e si scaraventa su qualcuno, ma è possibile che l'acquedotto pugliese si deve comportare in questo modo? È possibile che l'amministrazione comunale non si fa rispettare? È possibile mai? Ma in che modo? Ma da chi siamo amministrati? Ma come si amministra Taranto? Vergogna! I cittadini devono, guardate, guarda, non sto dicendo chiacchiere, sembra che io voglio esagerare, guardate il vento cosa succede, guardate, guardate la macchina che passa, guardate com'è, è ristretta la carreggiata e qui passano anche i bus, non ho altro da dire, però cittadini, quando ci sono le elezioni, quando ci saranno di nuovo le elezioni, ricordatevi dell'amministrazione Melucci, ricordatevi molto bene e non fatevi più ingannare dalle solite false promesse. Grazie.